Il MoVimento 5 Stelle 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 Che come osservo lei si sta riavvicinando Al 20% dato ormai che è abbandonato Da alcune settimane Senta Masia Sarà il caso settimana prossima E di chiedere quel che è fatidico Chiedere ai nostri connazionali Al campione che voi è compulsato Riguardo alla possibilità L'ipotesi di un intervento militare Contro l'Isis In Libia Lei quale pensa che sia C'è il feeling degli italiani in questo momento a riguardo? Ma credo che In questo momento gli italiani non abbiano Un'informazione dettagliata e precisa Di quello che sta succedendo Di quali possano essere le conseguenze Comunque sarà nostra premura Certamente Formulare una domanda molto chiara In modo tale Da avere un risponso Un risponso abbastanza certo Di quale è il feeling Quasi a caldo ormai Della situazione che si sta evolvendo Non mancheremo di certo